siamo alla settima gara siamo al redboring un'altra pista che non conosco però sono andato a vedere le gare spesso e volentieri quando vado a vedere le gare vado all'interno del circuito mi appoggio al rail e studio e guardo cosa fanno gli altri piloti in pista quindi quindi speriamo bene vediamo un po che cosa succede ciao